Ciao, benvenuti in guida strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, sei nel posto giusto. Io sono Manuela e in questo canale ti darò vari spunti e consigli di crescita personale spiegata proprio attraverso i videogiochi e gli anime. Perché gli anime e i videogiochi non sono più semplici passatempi, ma hanno tantissimo da offrire e possono diventare risorse davvero utilissime per la tua vita e la tua crescita personale. E qui parliamo proprio di questo. In ogni video ti parlerò di uno specifico argomento di crescita personale in modo semplice e divertente. O almeno spero. Insomma, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video, così riuscirai a migliorare la tua vita. Grazie alle tue passioni.